Amici di Sport Channel, stadio Rocca di Avellino, semifinale, playoff, torneo, prima categoria, girone E. Si affrontano il centro storico Avellino e l'Abellinum, centro storico Avellino di mister Sergio De Luca, Abellinum del guerriero della Rocca. Partiti! Palla a cercare Alato, fermato, ma non c'è fallo, poi De Luca scarica il sinistro, Cirillo a terra. Avvia Alato De Feo, avvia anche a Bolognese De Feo, la serpentina cerca Capobianco, trova ancora De Feo in aria, non stoppa, bene la sfera. Parte Bolognese, barriera, poi palla Casanova, il tiro, e c'è il gol! Il gol del centro storico con Casanova. Casanova porta in vantaggio il centro storico al trentesimo minuto, destro in controbalzo da fuori aria, e vantaggio per il centro storico Avellino. La rabbia della panchina dell'Abellinum, il destro di Casanova è stato bellissimo a fil di palo. Palla a De Luca a rientrare, e così, palla per D'Agenza, di testa alto. Occasione per il centro storico, Modesto dalla bandierina, il cross è interessante, lo stacca, no c'era. Ancora Alessandrino, palla per Cipolletta, destro fuori, occasione a Bellinum al quinto. Il cross lungo sul secondo palo, Cipolletta lo stacco, in aria per Napolitano, la palla resta lì, no c'era il tiro, sulla linea, salva tutto, ancora Di Caerano, il migliore in campo lui, Di Caerano. Parente, tutto solo, parente, può cacciare, anzi no, serve D'Argenzio, l'uscita, risperata, Cirillo salva il risultato. Cambia tutto per De Feo, lo perde Russo, De Feo arriva sul pallone, occhio, De Feo, cross in aria per Sabatino Napolitano, anzi no, un tiro, miracolo di Evangelista. Parente, palla a De Luca, non c'è fuorigioco, De Luca può centrarsi, palla a D'Argenzio, non c'è fuorigioco da D'Argenzio, da D'Argenzio, il tiro alto, occasionissima sprecata da D'Argenzio. Alla persona, Napolitano, Cipolletta, prova in destro, ancora! Evangelista col podere. Parente, per De Luca, stoppa, la sfara di Luca, destro fuori. C'è sempre Parente, Parente solo, c'è anche Bolognese che può salire e può chiudere, Bolognese, Bolognese, palo di Bolognese, non la chiude, centro storico. Batte Bolognese, pala lunga, cercare d'amore, là il tiro, palla scende. Labellinum ancora in aria, no c'era, prolunga per Napolitano, Napolitano di testa, il tiro è il gol, al novantesimo arriva il pareggio della Bellinum, al novantunesimo, il gol di Napolitano, incredibile, e la legge del calcio è spietata, la legge del calcio è davvero spietata, se non segni vieni castigato e Napolitano finisce qui, supplementari a Roca. Palla D'Argenzio, non c'è fuorigioco, D'Argenzio può metterla a basso il cross, circa da Lusso Modesto, con De Feo il tiro, c'è il gol, il gol dell'Abelinum, si toglie la maglia a De Feo, arriva il vantaggio dell'Abelinum con De Feo, proprio lui viene a festeggiare sotto la nostra postazione Carlo De Feo, che porta in vantaggio l'Abelinum, che gioia! Carlo De Feo, l'ex Santo Maso, ha punito. Non se la sente di cacciare la rete, apparentemente fa fuori il De Feo, poi fa fuori anche Napolitano, c'è l'alto, il cross basso in aria, arriva Andrita, che però schiaccia la conclusione, non ci arriva sulla palla sesta. Ancora per Russo, cross in aria, è teso, al lato, alto, centro storico che adesso sta schiacciando l'Abelinum, Occio, Occio, Napolitano è tutto solo, Napolitano non la giude, Napolitano si dimora il gol del 3-1. Non c'è fallo, Mercuro però vince un rimpallo, si invola Mercuro, 3 contro 0, Mercuro prova il destro, para, con Scodella in mezzo Russo, parente, prova il destro fuori e finisce qui, è festa Bellinum, il centro storico si arrende.